Let's get it guys, se vuoi acquistare skin e v-bugs nel mentre supportare il power of the nazionale ricordatevi che potete scrivere fanatic trattino in mezzo power scritto ovviamente col 3 al posto dell'e in supporta un creatore, lo trovate in basso a destra nell'item shop di fortnite ogni tuo futuro acquisto su fortnite supporterà anche me e vi farò degli splendidi ragazzi Let's get it boys Mamma mia a me sto prendo l'ebola questa risoluzione Ma perché mi si paga così? Dove pare, vabbè ma te ce ne ti serve, anzi metti l'epico no? No, 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 no Come stiamo andando? Dalle slings? Ma come? Sì, no, ho visto le slings Sì, ho messo il punto da un'ora a tilt addio Dai, non muoio pure perché arrivo in ritardo Io ho seguito la gente Dio sanzo, tutto te Allora mi troppo Allora, guarda, c'ho l'ebola, c'ho l'ebola in questo momento C'ho l'ebola agli occhi, chat C'è, ma io posso giocare allo skirmish, cioè, allo skirmish così La cosa più un professional del mondo Io laggo Io laggo Io laggo e me ne vanto C'ho un pompa Devi avere anche te la 2080 e laggare come lui, invece E invece C'è ancora relegato a una 1080 ti Raga, io voglio giocare 1.600, anzi io voglio giocare 1.44 per 1.80 Ma stretcherò ancora di più, no? Mamma mia, quanto vorrei stretcherlo in questo momento Il v-sync l'hai messo? Sì, sì, sì Ho messo il v-sync No, ho messo 144Hz, oh Cioè Sì, sì, e io metto 194Hz Sì, ma va lì, ma figura Che bollaggio Secondo me quando andrei lì manco ci arrivano a 100Hz 100FPS Vabbè, vabbè Ma dove fai il vago? Metti questo di dove stai quando è là Ti va medio Sì, 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 cos'è? Rane Mi sto spaccando un braccio a giocare con la tastiera in verticale Io non c'ho air Raga, mi sto spaccando veramente il braccio a giocare con la tastiera in verticale Oh, no, Torc No, non c'hanno preso le casse, Torc C'hanno preso le casse, Torc Dobbiamo andare dalla caccia Ah Io vado Vai, tiratelo No, no, io sto 100G Ragazzi, io sto fai tanto No Aspetta, Marzo, sei da solo, porco due, Marzo Marzo, mi stai per far venire l'Ebola se muori, eh Posso tirare le granate o stai fai Tira, tira Ce l'hai dietro C'è l'altro C'è lancia razzi No, ragazzi, c'ho un input lag devastante Ma chi è? Ah, ma sei tu, porco due Hai che coso piccolo? No Ne ho 66 Che di a Marzo è chiamato Da, da 68 Andamola a prender Ah, uno è che su artella, sì Hai visto eh? Ah, lo vedo Io ti è pezzato Io ti ho tutti i rockets Anche io La fine, ne ho finiti Mi sparano qua a destra Mamma mia che lag Guarda quanto turbo build No Fatto uno E l'altro team Un altro E' un hit Preciso Buon botto di fatica C'è uno sotto di me Ho sentito Aspetta E' a metà Cazzo da tirare Ma ho dovuto prendere la chi Adesso mi stanno sanguidando gli Oh, gente Gente che arriva Nord, 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 nord Raga, nord Dov'è che arrivano? Nord Sta qua davanti a me Allora dove c'era il build fight di prima E' il shot a uno Non so come l'ho presa a caso Potete spararvi ragazzi Giorgio, mi ha incoperto il suor Scusami, non volevo Non era mio C'è Ho fatto il turno Ho finito l'altro Chi ha con il pompa Ma c'è uno qua Oh, c'è un altro assist Oh, spara Non spara Non amo Oh, l'hai preso? O ti ha nittato a te? E' anche quello Ah, sì Ce l'ho davanti Buono Che fatica a sparare Andiamo a prendere le pietre E voliamo via Oh, c'è uno davanti Scusami Rimane ancora uno Qua è sciocco sotto Devo andare via io Pietra? Sì, sì, sì Qua c'è una Eh, fatemela prendere a me quella ragazzi Perché Io prendo la pietra Ho prenduto la pietra Eh? No, vado dritto Vado dritto in safe Guarda quanto vado veloce Ah, vabbè St'ammanza Weeeow Col banding hop Weeeow Però sì, non posso Veramente Stando avanti al tetto A periodo ciò che faccio Ah, l'ho davanti a 89 Sì, per esempio Al tifoso Semm'hanno driftato Stai questa risoluzione St'ammanza No, mi sta pushando uno Regà, non ho bastato Senza materiali No Stai arrivando Spiderman Ciao, me ne vado Olle Mi segue? Dimmi se mi segue No, sta buildando Prendiamo il buco? No, non andremo abbastanza Non ha senso Non ha senso Arrivò io Te l'ho aiuto Torque No, Torque Mi hai chiuso Andiamo Oh no Uno largo a sinistra Ragazzi One shot Torque Senti Io li provo a Locato questo davanti Ovest Nel portoforte Ok Oh, ci abbiamo a sinistra Locato anche quello A sinistra Locato un altro a sinistra C'è solo quello lì da te Quello che c'è da Giorgio Poi l'altro lo abbiamo qua Oh C'è un altro Dentro da voi Oh, cazzo Dov'è? Dentro sotto di voi One shot Ucciso Buono Buono Ah, regà Ma giocando così Mi sento veramente Nel re degli scarsi Poi Mi ha dato uno Scuso Io ho fightato un botto Stanno guardando Ah, c'è C'è quello che ci sta guardando A 60, regà Occhio Non abbiamo niente Di perdere i stati Adesso Io ho la pedana Vai, metti La metti qua dietro Vai, vai Vai, Marzo Metti la pedana Aspetta, bro Cadroia, Marzo No, Rao La stretch Adete dar cervello Bianco, quello è morto Non mi capate Sono caduto in mezzo a 12 team Oh, all dead Sì, sì Sono saldo Marzone Che stava piegato a 90 Stanno abbiaggando l'inferno Tieni Hanno messo un jump Stanno jumpando qua Mi sa No Stanno jumpando Dove è stato jumpando? Muno sta a 120 120 Abbiamo un rift qua Se volete riftare Da qualche parte 195 A nostra destra Perché dovremmo riftare? Dove eravamo noi 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 Sì, sì Boh Un muro davanti Boh Sono attrappolato Possiamo riftare Regà Potremmo riftare Tranquillamente In my honest opinion Fatemi vedere cosa posso prendere Sei pronti? Vai, vai Lasciatemi Prima cosa Lasciatemi Sei Botto di Cazzi Qua Fatemi Ricaricare Ragazzi E mandiamo Un secondo Ricarico Fermi Fermi Che dobbiamo Le armi Vai Mi vado dietro Andiamo dietro A quello sopra Andiamo dietro A quello sopra Ok Ok È una paura Questa Sì Sì No Mamma mia Ragazzi accanto a noi Un po' Un piccione Anche a più questo Maccato Ma nessuno lo finisce Ragazzi Anche a me la domanda Sì Anche a me la domanda Di Behringer Regà Io Non è Cattiveria Per la chat Per tutti Ma Queste condizioni Per giocare Sono ridicole